Siete? Luca Ceccarelli, partiamo dal gol, è arrivato in un momento importantissimo in cui l'Avellino era passato in vantaggio e vi giocavate tantissimo nella vostra stagione, gol che arriva da pallina attiva, è importante anche trovare gol su queste situazioni, quest'anno ci tenete vicino tante volte però non sempre avate riusciti a essere incisivi in questo aspetto. Sì, è vero, è importante in tutti gli aspetti, il meno che l'ho fatto io, nel senso che poteva farlo chiunque, ma era un momento della partita dove meritavamo anche di ragganciarla per come è stata giocata e viene su pallina attiva che purtroppo con le tante cose che sono un pochino mancate quest'anno a questa squadra, anche quest'aspetto qua, qualche gol in più sarebbe stato ad oggi importante ai fini risultati e ai fini della classifica. Quindi prendiamo sicuramente come aspetto positivo questa cosa qua perché ci siamo sbloccati lì contro una squadra che era ben attrezzata con tutti i giocatori prestanti fisicamente e noi oggi spesso e volentieri la palla l'abbiamo presa noi, quindi è stata calciata bene, siamo andati dentro con la cattiveria giusta, quindi può essere un'arma che ci può tornare utile in queste sette partite qua perché se tante si risolvono in questa maniera qua, se non riesci a segnare con azioni di gioco spesso e volentieri il risultato lo si può sbloccare su pallina attiva, sul calcio d'angolo, quindi dobbiamo crederci come è stato oggi perché oggi l'abbiamo fatto realmente ed è stato un peccato perché poi dopo anche alla fine abbiamo avuto due o tre situazioni dove probabilmente ci permettevano di chiudere la partita e quindi dobbiamo ragionare su questo e andare avanti in questa maniera. In un momento così importante della stagione ti chiedo se vi manca un po' di cinismo, quel cinismo che spesso trovano gli avversari, nel senso che tante volte mi avevo commentato alla prima azione degli ospiti un gol. In questo momento ci mancano tante cose, nel senso che il cinismo è una di queste sicuramente, se vediamo l'Avellino oggi ha fatto una partita di contenimento cercando poco, a dire la verità, di impensierirci, però gli ho dato merito perché sono andato in vantaggio loro con secondo me un gran gol dei loro attaccanti, quindi più dei meriti loro che dei meriti nostri. Purtroppo quando ti trovi in fondo là succedono anche queste cose qui, in una partita dove hai gestito bene, dove hai tenuto anche abbastanza bene secondo me il campo e dove hai avuto più occasioni di loro ti ritrovi sotto di un gol in uno scontro diretto e quindi ti può crollare il mondo addosso. La reazione c'è stata, probabilmente alla fine meritavamo anche di vincerla e quindi siamo costretti e dobbiamo angrapparci ai lati positivi di ogni partita che adesso andiamo a fare. La settimana scorsa abbiamo analizzato il brutto stop di Cesena, ci siamo presi le colpe e responsabilità, oggi devo dire che la squadra la partita l'ha fatta e quindi dobbiamo già lato mattina preparare martedì la partita di Venezia. In una stagione particolarmente sfortunata come quest'anno, vincere in rimonta poteva accrescere un pochino l'autostima che in questo momento forse potrebbe anche venire a mancare. Quanto è importante il risultato di oggi ai fini della classifica futura? Credimi che siamo andati con tutte le nostre forze a cercare questo aspetto di capovolgerla perché non ci siamo fermati su gol subito come è successo purtroppo tante altre volte ma siamo andati con cattiveria e voglia a recuperare questa partita qui perché sapevamo che era determinante perché oggi perdere sarebbe stato pesante a fine classifica, a fine sconti diretti della classifica che sarà poi avulsa anche alla fine quindi ci abbiamo messo tutti noi stessi, vincendo ci poteva dare una spinta incredibile però credo che come ho detto prima se dobbiamo rimanere attaccati agli aspetti positivi anche il fatto di averla recuperata, di averla sfidata di vincere non ci deve intaccare la nostra reazione, il nostro pensiero su quella che è stata la partita e quindi dobbiamo riportarla a martedì che anche se siamo fuori casa dobbiamo andare a fare la partita e dobbiamo cercare di vincere, non possiamo andare là sperando di portare via un punto contro una squadra che ha fatto fino ad oggi un ottimo campionato ma dovremo andare in tutte le maniere a cercare di vincere a Venezia. Uomo Cardine dello Spogliatoio a Venezia, cosa dirai in questi due giorni i tuoi compagni durante gli allenamenti? Sicuramente da domani mattina si ritornerà al campo, ci stringeremo tutti insieme, si scenderà in campo, si farà il nostro allenamento ci si caricherà per quella che sarà la partita di martedì perché non possiamo fare altro i ragazzi nonostante le tante defaianze che abbiamo avuto quest'anno, nessuno molla, tutti ci tengono siamo consci della situazione però non ci possiamo fermare, quindi io sono più vecchio e non ho voglia di fermarmi e credo che questo sia da spinta anche agli altri perché insomma se lo faccio io, se lo fa Michele Troiano se lo fanno quelli più esperti e i giovani devono essere quelli che in questo momento qui possono fare qualcosa in più e spingerci, quindi l'impronta sarà quella lì di incoraggiare la squadra nonostante la partita di oggi, il risultato di oggi perché secondo me è stata comunque positiva e appunto ti ripeto dobbiamo preparare per andare a vincere a Venezia Torna il gol dopo Vicenza? Sì, torna il gol dopo Vicenza, come ho detto a lui non era importante, mi interessa poco aver fatto gol oggi ti dico la verità, era importante riprendere questa partita qua e quindi spero che martedì possa segnare anche qualcun altro e possa portare punti importanti nella nostra causa Grazie Grazie Grazie